Professoressa, perché sì al referendum? Perché ritengo che ci siano in questa riforma tanti aspetti molto positivi, tra cui forse il principale è quello proprio della distribuzione dei poteri tra lo Stato e le Regioni. Credo che le Regioni non abbiano ben utilizzato il potere che hanno avuto nel 2001, che cambiarlo non vuol dire malinterpretare lo spirito della Costituzione, perché comunque è stata una riforma fatta nel 2001, e credo che tornare indietro e riaccentrare delle competenze sia solo positivo per il godimento dei diritti uniformi in tutto lo Stato. Senta, tra le obiezioni che fa il Comitato per il No c'è, per esempio, il fatto che i senatori saranno scelti tra consiglieri regionali e sindaci e si dice che quello diventa un dubbio lavoro e così si finisce col fare male l'uno e l'altro. Più parlo con i consiglieri regionali e con i sindaci, più mi rendo conto che i consiglieri regionali e i sindaci non solo seguono già esattamente puntualmente i lavori del centro, ma si recono talmente spesso a Roma che andarci anche per andare al Senato non sarebbe certamente un aggravio. E invece è molto importante che le istanze locali passino direttamente attraverso un organo legislativo come il Senato, anziché procedure opache come quelle della conferenza Stato-Regioni o altre.